Le migliori maschere a base di bicarbonato di sodio Il bicarbonato di sodio è uno degli elementi che non può mancare in casa, perché possiede molteplici applicazioni. Sia per la pulizia che per la salute o l'estetica, non dimenticate di ricorrere a tale prodotto. In questo articolo vi esporremo le migliori maschere che potete realizzare utilizzando questo ingrediente. Proprietà del bicarbonato di sodio in campo estetico. Si tratta di un elemento fondamentale da tenere in casa, perché può essere utilizzato a diversi scopi. Se soffrite di problemi cutanei abituali, acne, punti neri, pelle oleosa, vi consigliamo di dargli un'opportunità per migliorare il vostro aspetto. Alcuni dei vantaggi dell'utilizzo del bicarbonato di sodio sulla pelle, e soprattutto sul viso, sono. Tutti i giorni il nostro viso viene esposto all'inquinamento ambientale, ai raggi del sole, alle tossine, alla polvere e a molto altro. Se di sera non lo laviamo, tutto questo sporco si accumula e provoca macchie, mancanza di elasticità o pori dilatati. Il bicarbonato può aiutare nella pulizia della cute. L'acne non compare solo agli adolescenti. Se non ci prendiamo cura della pelle come si deve, i brufoli non tarderanno a presentarsi. Una maschera a base di bicarbonato di sodio è la risposta per poter regolare il grasso che si accumula sulla pelle. Esattamente come funziona bene contro l'acne, il bicarbonato può anche esserci utile se abbiamo delle macchie prodotte dal sole, dal passare del tempo o dalla depilazione. Quando si mescola il bicarbonato con miele, olio di argan o di oliva, il risultato sarà un'ottima maschera idratante. Questa combinazione apporta vitamine e acidi grassi essenziali che stimolano il metabolismo cellulare e trattengono l'acqua nelle membrane cellulari. Effetto antisettico e antinfiammatorio. Anche se non è indicato per pelli troppo sensibili, perché può causare arrossamento, irritazione e secchezza, il bicarbonato di sodio agisce come potente antisettico ideale per i brufoli che si infettano. . Può anche essere utile se la pelle risulta infiammata a causa di un'allergia o del sole. Economico. Oltre al fatto che la sua applicazione è molto semplice, il bicarbonato è economico e può essere acquistato senza alcun problema in qualsiasi supermercato. . In pochi minuti possiamo realizzare una maschera efficace senza dover ricorrere a costosi trattamenti in un salone di bellezza. Le migliori maschere a base di bicarbonato di sodio. . Potete provare se questo ingrediente reagisce bene sulla vostra pelle passandone un po' sul dorso della mano tramite movimenti circolari. Aspettate qualche minuto, prestate attenzione e identificate eventuali arrossamenti, irritazioni, bruciore o qualsiasi altro sintomo. . Se niente di tutto ciò si verifica, potete utilizzare il bicarbonato senza alcun problema. Maschera a base di bicarbonato per pelli grassi. . Questo trattamento è utile per escogliare, idratare e rigenerare la pelle. Gli ingredienti sono facili da reperire e la preparazione richiederà solo qualche minuto. Ingredienti. . 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 30 g, 3 cucchiai di acqua minerale, 30 ml, il succo di un mezzo limone 4 gocce di olio d'oliva, mandorle o lavanda. Preparazione. . . Collocate il bicarbonato di sodio in un recipiente. Aggiungete l'acqua poco a poco mentre mescolate per formare un impasto. Spremete il limone e aggiungetelo al preparato. Infine, versate le gocce di olio essenziale scelto. . Applicazione. Lavate il viso con acqua tiepida e asciugate dando delicati colpetti con un asciugamano. Tramite movimenti circolari, spargete la maschera su tutto il viso, evitate il contorno occhi. . . Se notate un po' di bruciore sui brufoli, non preoccupatevi. Lasciate agire per circa 20 minuti e rimuovete con abbondante acqua tiepida. Maschera a base di bicarbonato per pelli secche. . Questa ricetta è simile a quella anteriore, ma invece di limone contiene meno. Ingredienti. . 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 30 g, 3 cucchiai di acqua minerale, 30 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g, 4 gocce di olio d'oliva, mandorle o lavanda. . Preparazione. . In un recipiente, collocate il bicarbonato di sodio e aggiungete poco a poco l'acqua. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, aggiungete il miele, se liquido, ancora meglio. Aggiungete l'olio essenziale che preferite e mescolate. . . Applicazione. Con il viso pulito e lievemente asciutto, applicate la maschera con delicatezza sul viso per non irritarlo. Aspettate 15 minuti e rimuovete con acqua tiepida. . Se notate la pelle un po' secca, potete applicare una crema idratante, quella che usate abitualmente, oppure un paio di gocce di qualsiasi olio essenziale. Mastera a base di bicarbonato di sodio con camomilla. . Questo esfoliante per il viso può essere realizzato in casa senza problemi. Quando avete un pomeriggio libero, approfittate delle bontà dei suoi componenti. Ingredienti. . 1 bustina di camomilla 1 mezzo tazza d'acqua, 125 ml, 2 cucchiai di avena in fiocchi, 20 g, 1 cucchiaio di miele, 25 g, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 20 g. . Preparazione. Preparate l'infuso di camomilla come al solito. Nel frattempo macinate i fiocchi d'avena con un mortaio, un frullatore o un cucchiaio. . Collocate il bicarbonato in un recipiente con il miele e l'avena. Ritirate la bustina di tè e aggiungetelo poco a poco nel preparato. Se il mix è troppo leggero, potete aggiungere altro bicarbonato. . . Lavate bene il viso e applicate generosamente il prodotto nelle aree in cui si accumula grasso e sporco, naso, fronte e guance. Lasciate trascorrere 20 minuti e sciacquate con acqua tiepida. . Alla fine, applicate una crema idratante. Ripetete il trattamento una volta alla settimana. . 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